L'Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina di Ispica ha ottenuto il certificato di qualità europeo per l'eccellente lavoro svolto lo scorso anno scolastico 2020-2021 sul progetto E-Twinning Pulse. Il certificato di qualità europeo è un importante traguardo riconosciuto ai massimi livelli europei. Il progetto sarà inserito in un'area speciale del portale europeo all'indirizzo www.etwinning.net.